Ringrazio per l'accoglienza, dirò che sono anche io felice di essere qua e di adempiere una richiesta del dottore, del professore, che è data già dall'anno scorso, alla quale tardavo a rispondere perché aspettavo un'occasione che aiutasse a finanziare questo viaggio a Malta. Questa occasione è venuta capitata proprio in questi ultimi giorni e così ho chiamato il professore, pronto a venire a Malta e conoscere gli amanti del bel canto, ecco con tanta gioia. Vogliamo iniziare? Sì, senza altro, grazie maestro. A distanza di 41 anni dal suo esordio scaligero con una stupenda manone, che cosa prova un cantante in un momento simile? Vorrei dire, che ricordi serva di quella prima esperienza alla Scala? Il ricordo più vivo è quello di non avere avuto paura di un esodio di questo genere, il punto d'arrivo. Immaginavo di avere una grande paura di affrontare questo pubblico che Caruso definiva il pubblico che faceva tremare gli artisti. Infatti la Scala più che un pubblico è un tribunale, almeno lo era. Quando facciamo riferimenti, come mi ha spiegato la professoressa, laudatores temporis acti. Non c'è la professoressa? Non c'è? Sì? Laudatores temporis acti. Io sono uno di quelli, lo dico subito, perché tutti quelli che hanno vissuto parecchio amano prima di tutto il periodo della gioventù. E tutto sembra più rosio, tutto più giustamente. Però la verità è questa, che avendo un atto di nascita pericoloso a denunciare, perché vai in là, vai indietro diciamo, però ti offre anche il vantaggio di aver vissuto epoche diverse, abitudini diverse. Gente, gente importante, come i grandi compositori, ho conosciuto Mascani, ho conosciuto Giordano, Cilea, ho cantato per il Pizzetti, anzi il Calzale d'Argente, è stato una delle sue ultime opere in prima mondiale. Il fatto di essere anche nati parecchi anni fa ha i suoi vantaggi e di aver conosciuto appunto di aver vissuto con dei personalaggi indimenticabili, Toscanini, De Sabata, ma di queste cose ne parlerà poi il nostro amico, che è il signor Cicluna. 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 Cicluno. Ecco, quasi insomma. Ecco, anzi lui mi darà in là queste cose, perché io ho poca memoria. Tutto è passato così in fretta, no? Avevo cominciato a cantare già a 16 anni, 17 anni. Ho vinto i primi concorsi, anche l'unico, che allora era un grande concorso di canto, era prima provinciale, poi chi vinceva nelle province arrivava a Firenze e nelle finali ho vinto due volte. La prima volta ho vinto, ma sono stato scartato, perché non avevo i limiti d'età, avevo 17 anni e mezzo. Poi sono tornato, ho vinto ancora un'altra volta, ma non ho preso la posta di studio, perché al momento del concerto finale mi sono raffreddato. Destino che non dovevo studiare molto, ecco. La posta di studio non dava bene per me. 18-19 anni, poi la guerra e dopo tre anni di servizio militare la Svizzera, internato militare, però liberato quasi subito, perché le corde vocali sono un passaporto che non ha scadenze, non ha bol, niente, se uno canta trova tanti amici sempre. Così sono entrato in Svizzera, lì ho cominciato la mia grande carriera, non quella operistica, ma la carriera di cantante, al punto che quando morì Roosevelt l'ambasciatore americano, mi chiamò, io ero in un campo di internamento militare, c'era anche Fanfani fra l'altro, erano molti politici, Mataloni, sovrintendente della Scala, campo universitario di Rosanno, mi chiamò per cantare per celebrare un'Ave Maria, di Gounod, nella cattedrale in memoria di Roosevelt, ecco, questo era un ragazzo, ma già in questa Svizzera avevo avuto molta fortuna. Poi subito nel 1945 sono tornato in Italia, ho studiato qualche mese così, con Montesanto, e poi la carriera, nel 1946 il debutto a Reggio Emilia, tutto è passato così in fretta, dovrei scrivere un libro di memoria, ma in memoria non ne ho, non lo scriverò mai. A proposito del suo maestro, anche lui venne a Malta, il maestro Luigi Montesanto, si, era un baritone, ha cantato a Malta, e lui ha debutato con Caruso nel 1915 nei Pagliacci al Teatro d'Alvermi a Milano, e questo lo ricordo perché è mio maestro, ricordo di più le cose degli altri. Bene, la prossima è la seconda domanda, tra i dischi commerciali e quelli live, registrati dal vivo. La discografia di Giuseppe Di Stefano comprende almeno una ventina di edizioni di opere complete. In questa raccolta tra le pietre del paragone si possono segnalare il Requiem di Verdi, registrata all'inizio della carriera con Toscanini, la bennota tosca del 1953, diretta da De Sabata, con Maria Callas e Tito Gobbi, Lucia, Berlino, sotto la direzione di Caraghan, insomma eccetera eccetera e così via. Ma qual è la registrazione discografica che è rimasta più vicina al suo cuore? Io sono nato in un'epoca dove già il verismo era in atto, Caruso è stato quello che ha aperto questa strada, appunto perché era nato con Puccini, con Leoncavallo, il verismo è stato, stato. Però avendo una voce lirica, lirico, lirico leggero, ho cantato Masné, ho cantato opere leggere, il Barbieri di Siviglia, Faust, cose che servono per uno che deve arrivare a cantare poi opere più, non dico drammatiche, ma veriste. Per cui il mio istinto mi porta al verismo, essendo nato come tenore nel 1946. Amo il verismo, amo la parola e allora io dovrei dire che tutto quello che ho cantato è perché mi piaceva cantarlo, ma che Puccini è quello più vicino al mio temperamento. Poi c'è anche il notissimo Faust del 1949 al Metropolitan, dove lei si permette anche di filare un do acuto, se non mi sbaglio. Beh, si vede che il Padre Eterno ha dovuto essere molto generoso con me, mi ha dato tutte queste possibilità, no? Di fare anche questi esploi, che sono delle cose quasi soprannaturali, però non è che ci voglia molta intelligenza, ci vuole tanta fortuna avere uno strumento che si piega a queste cose. Quando mi chiedevano come fai a smorzare questo do? Dico ma io prendo un lunghissimo fiato, poi quando non ne ho più canto piano. Lo smorzo. A proposito di quella serata, che ricordi servono di quella serata al Metropolitan? E' degli anni del Met? Dico che ricordo è il mio debutto, perché quella sera non stavo bene, ero arrivato così e all'ultimo momento, un giorno prima di debutare, mi pediva di usare il mio diaframma, alla forza, un malessere che poi per fortuna passò dopo il primo atto. Allora mi ricordo il mio maestro Montessanto, palermetano, arabo, sangue, come si dice in spagnolo? No, 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 è caliente, troppo facile è caliente, come dice Verga, come dice Verga di malavoglia, no? Sangre arabo in venas andalusas. No, non è così. Mi verrà in mente dopo. Comunque questo Luigi Montessanto era bellissimo, lui stabile, c'era un gruppo di cantanti che erano di un'eleganza straordinaria, delle figure stupende, però era appunto molto arabo e arrivando a New York, lui aveva cantato anche con Toscanini naturalmente, però Toscanini fu lui a cercare Montessanto e Montessanto si è alzorondo al telefono convinto che era il figlio, no? Ciao Walter! E poi si mise a tremare, maestro Lenghi, non è possibile, non è possibile! Toscanini telefonava perché aveva sentito questo disco che fu uno dei primi dischi che io registrai per Lenghi e mi volle per il cinquantenario del Requiem di Verdi. di Verdi. Ma naturalmente ricordo il debutto a Metropolita perché per via di questo malessere che mi vedeva di cantare, che però per fortuna passò e dovete aspettare fino alla romanza del secondo atto, farmi vedere lacrime per ottenere un consenso generale. Allora Montessanto che era svenuto così dietro le guinte, quando ha sentito il successo di questa romanza si è svegliato. Adesso possiamo aprire le valince. Ecco il debutto. Naturalmente questa partecipazione al Requiem di Verdi con Toscanini è una delle tappe più importanti della mia carriera. Il lirico di Stefano delle Manon, degli Elisir d'Amore, dei Pescatori di Perle ha forzato il portone del regno del tenore lirico spinto cantando Gioconda, Aida, Trovatore, Carmen, Durandot. Questo passaggio, questo progressivo addentrarsi in un repertorio del tenore lirico spinto fu dovuto a che cosa? Troppa generosità da parte sua? Vedi, in quegli anni il mondo dell'opera dei cantanti era circondato da molte frasi convenzionali come dire, non si può cantare tutte le sere, un tenore deve riposare, cantare una sera, riposare due giorni, come se fosse un comparto, capisci, una cosa di questo genere. Oppure altre cose, c'era il tenore leggero, il tenore zanzara, il tenore come nella box, il tenore pesi piuma. Questo c'era in quell'epoca lì, per cui il tenore spinto faceva solo le opere del tenore spinto. Il tenore leggero naturalmente doveva fare. Ma qualche anno prima invece c'era un certo Roberto Stagno che cantava tutto. Quando nei teatri comandava Verdi, quando nei teatri c'erano i grossi geni che allestivano le loro opere, il tenore era tenore. Poi se avesse avuto una voce piccola, una voce grande, il fatto espressivo era importante, di dare un'emozione. Ci sono voci grandi che non dicono niente, ci sono voci piuttosto piccole, come quella di Schippa, che proprio nell'inventiva della Lucia sollevava il teatro, con una voce piccola. Per cui non c'erano queste distinzioni che sono venute dopo. Adesso anche i tenori di oggi dimostrano che cantano Trovatore, come Pavarotti, adesso canterà l'Elysia d'Amore, ma ha cantato Trovatore, ha cantato opere impegnative. Quante volte mi ha detto, ah, il Trovatore, non lo canto più, questo Trovatore, troppo forte, però continua a cantarlo. E non so, è Aida, Domingo canta, canta, non è lirico, perché canta tutto. Non è voce d'autello, ma lo canta bene, perciò lo ha cantato dappertutto. Queste cose del tempo passato appartengono a una certa critica che non si è ben definita, non so ancora in che epoca civile o che non conosce bene il melodrama, perché il fatto è così. Allora si cantava tutto. Naturalmente cantavano tutto anche perché prima del repertorio riverista c'era il repertorio lirico, romantico, per cui il cantar bene Rossini, Donigetti, cantando queste opere, cantando il classico, Bellini, arrivavano poi a creare uno strumento che poteva affrontare la parte drammatica, ma col cantabile del classico, avendo già costruito una cassa armonica, fiato, diaframme robustito, ma con uno strumento, diciamo come un pianista che fa gli studi classici, poi si dedica al jazz. Ecco qui, questo qui, uno per arrivare a cantare opere spinte, le deve cantare avendo fatto degli studi classici, cioè Rossini, come ha detto Bellini, Donizetto, l'800. L'800. Per cui questo passaggio, questo passaggio naturale, in tutti i tenori si cominciano da giovanissimi, avevo un visino così, pesavo 63 kg, cantavo la Manon di Masné, a 80, 85, 90, cantavo Chenier, cantavo. A proposito, in un articolo pubblicato anni fa, Giorgio Gualerzi dice, fra l'altro, a Di Stefano, del fattore tecnica, ad essere sinceri, non è mai importato nulla. Poi più tardi, in una trasmissione radiofonica, lei asserisce che chi si dedica troppo allo studio della tecnica, finisce per perdere di vista la naturalezza o l'istinto creativo. Insomma, non c'è quell'abbandono al personaggio. Ma questo ragionamento dà o non dà ragione a Gualerzi. Tanto Gualerzi non canta. Io ho parlato, avendo conosciuto, Caruso purtroppo non l'ho conosciuto perché io sono nato il 24 luglio del 21 e lui è morto il 2 agosto del 21. Però Gigli, il suo erede, la voce più bella che si è esistita dopo Caruso, è il cantante che cantava 24 ore al giorno, perché io l'ho visto cantare al mattino, pomeriggio, la sera, al ristorante, faceva la recita, perché cantava sempre, cantava, no? Perciò, a parere di tutti, il più grande tecnico, perché stava sempre bene, mi diceva lo stesso Montessantio, ieri sera aveva cantato, non c'aveva un filo di voce, però ha cantato lo stesso. Il giorno dopo era un brillante, come se guarito improvvisamente, cioè superava un fatto, un raffreddore così, con questa sua grade tecnica, con questa sua grande salute, cioè il più grande tecnico di esistere. Io dirò subito che ho conosciuto Gigli, naturalmente ne parlo con gioia perché l'ho già accennato prima al mio incontro con Gigli, e avendo cantato poi nella stessa stagione a Rio de Janeiro, sono salito in palcoscenico durante l'intervallo e gli ho detto, maestro, ma c'è un segreto in questa professione, c'è una tecnica? E fa sì, sì, c'è una tecnica, c'è un segreto, qual è, qual è? Allora ti dirò, io sono in albergo, sto bene, vado in teatro e canto male, oppure sto in albergo, sto male, vado in teatro e canto bene. Questa è la tecnica. La tecnica è uno strumento naturale, come il nostro, qual è? È quella di cantare bene. Tu non puoi cantare bene senza avere un'idea del modo di far salire questi suoni. Non c'è un angolo di che se lo faccio alludono questi, devi mettere la voce nel naso, buonasera, ma questo lo possono fare tutti, che non sono pagati però. Solo che non sono, il tempo d'oggi non offre loro l'aiuto dei vecchi direttori d'orchestra che amavano i cantanti, sorridevano mentre si calava, lo sono i cantanti, oggi sono loro che fanno un sacco di gesti, non c'è questa scuola di canto, questo è un guaio per i giovani, ma che possibilità? Di possibilità ce ne sono tanti. Il primo rango, non mi riferisco a Pavarotti o a Domingo, ma ai giovanissimi, se lei è d'accordo, a che cosa attribuisce questa grande carenza? Le ragioni possono essere varie, non so, soprattutto, allora se devo parlare da professionista, come sono in questa sedia, devo dire che è come Führer Wengler, che è un libro, per me è un Vangelo questo libro di Führer Wengler, che dice delle cose esatte che io se parola, oggi si fa solo suono, per cui la respirazione, per cui il cantante non si sviluppa vocalmente come si sviluppavano una volta, per cui cominciavano pure con delle vocine o voci liriche, appena appena, poi cantando in questo modo a pieni polmoni, diciamo per semplificare, e graffiando in questo modo, le voci si sviluppavano, oggi invece no, siccome sono preoccupati, mi dicono, c'era la parola di Boehm, guarda che Pavarotti sta litigando con questo grosso maestro tedesco, l'articolazione delle voci si sviluppano, per me questa è la diagnosi esatta di questa penuria non di voci, ma penuria di sviluppo della voce attraverso la carriera, mancanza di sviluppo. Quelli che sperano è semplicemente di pensare che non basta solo la voce, che le voci ce ne sono, ce ne saranno sempre, ma di preoccuparsi se si ha questo istinto al canto, questo proiettare immagini, questo pensare più al poeta, anzi bisogna allontanarsi dalla tradizione del passato, la tendenza è questa, perché così, oggi è così, denaro, fate, via, 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 di questo genere, allora il denaro non contava niente, ma è il toscanismo. ...che hai questa voce, ma soprattutto constatare che hai questo istinto per il canto, accennavo stamattina che la Rusconi mi ha commissionato un libro sull'arte del canto, dovrebbe uscire in ottobre, ma io ancora non ho cominciato, perché non so cosa scrivere, io potrei solo raccontare delle cose così, ma scrivere l'arte del canto. L'arte del canto, per me il libro ideale sarebbe, prima pagina, cantante si nasce, seconda pagina, cantante si nasce, terza pagina, cantante si nasce, e arrivare alla centocinquantesima, con delle belle fotografie, mentre canti, con un serafine che ti dà un consiglio, o de sabata, ecco, con queste che parlano di un'epoca, e attraverso una fotografia capire che questi maestri si preoccupavano e conoscevano, perché sono nati con mascagni, sono nati con puccini, sono nati con verdi, capisci, l'arte del canto la conoscono loro, ed è una cosa che non si può andare a casa da ricordi, vedi a tre chili di temperamento, non si può, non si può comperare, perciò cantante si nasce, e poi all'ultima pagina cantante si muore, ecco, questo sarebbe un libro divertente se, mettendo delle belle fotografie, qualcosa di questo genere, ma dire, allora si abbassa le laringe, le narici si dilatano.